Fino al 6 marzo, alla biblioteca della regione Piemonte, prosegue Cimeli del fronte, gli oggetti che parlano della grande guerra. In esposizione, gli equipaggiamenti, le armi dei soldati italiani e una piccola parte di oggetti appartenuti al nemico, i soldati austriaci e tedeschi. Nella galleria Belvedere di Palazzo Lascaris è allestita fino al 9 marzo Tu Cancro, Io Donna, ammalarsi di femminilità. Mostra fotografica promossa in collaborazione con Andos, associazione nazionale donne operate al seno. Dal 3 al 14 marzo a Torino, presso l'ex birrificio Metzger di Via Sandonato, è allestita la mostra Piazza del Piemonte, architettura urbanistica e eventi quotidianità, promossa dal Consiglio regionale.